I ministri della difesa della Nato si sono incontrati a Bruxelles per coordinare gli sforzi su come sostenere ulteriormente l'Ucraina e rafforzare le capacità di difesa. Ciò significa il dispiegamento di più formazioni di combattimento della Nato per rafforzare il fianco orientale dell'alleanza, nonché più scorte di armi, per migliorare la forza di reazione. L'aggressione della Russia è a un punto di svolta. La Nato deve mantenere una deterrenza credibile e una forte difesa. I ministri hanno affrontato la portata e il progetto per il futuro atteggiamento e come possiamo intensificare in tutti i settori un sostanziale rafforzamento della nostra presenza, della nostra capacità e della nostra forza di reazione. Nel frattempo gli ucraini stanno ancora spingendo per più armi che dovrebbero arrivare più velocemente, poiché i pesanti combattimenti continuano ad est in luoghi chiave che sono sotto intensi bombardamenti. L'analista Rajan Menon ricorda che uno dei consiglieri senior del presidente Zelensky, Mikhailo Podoliak, ha affermato che c'è bisogno di molte più armi. Finora hanno ottenuto la metà del numero di carri armati di cui hanno bisogno, un sesto dei lanciarazzi multipli e circa un quarto degli obici. Quindi c'è un divario tra ciò che vogliono gli ucraini e ciò che è stato fornito finora. Siamo a un punto in cui la battaglia nel Donbass è in un momento critico perché se i russi, e dico se, riescono a unificare il fronte e stringere a tenaglia le truppe ucraine, gli ucraini potrebbero perdere da 10 a 20 mila di alcuni dei loro soldati, meglio addestrati e più esperti, che non possono essere prontamente sostituiti da reclute impreparate. L'incontro dei ministri della difesa ha preceduto il vertice Nato a Madrid, previsto per la fine del mese, dove verrà concordato un nuovo concetto strategico dell'alleanza che definirà una posizione comune sulla Russia, ma anche sfide emergenti, come quella cinese.